Il Coro da Camera di Torino si è giudicato il Gran Premio Città di Arezzo 2023 del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. Una garanzia per l'accesso di diritto al Gran Premio Corale Europeo 2024 che si terrà a Varna in Provenza il prossimo luglio. È una grandissima gioia e come dicevo prima una grandissima emozione perché è un sogno che è iniziato 40 anni fa quando ho ascoltato per la prima volta un'edizione del concorso polifonico di Arezzo. Tornarci e partecipare era già una grandissima emozione per questo e una grandissima immensa gioia per tutto il lavoro fatto. È un risultato che è andato oltre ogni nostra aspettativa e che vogliamo condividere comunque con tutti i partecipanti di questo concorso, con tutti i coristi che hanno studiato, che si sono impegnati, ai maestri che stanno facendo una grandissima opera di cultura musicale per i giovani. 13 cori provenienti oltre che dall'Italia, da Spagna, Indonesia, Paesi Bassi, Filippine, Portogallo, Polonia, Inghilterra, Svezia ed Irlanda che si sono sfidati per la 71esima edizione della competizione. Perfettamente in linea con i livelli degli ultimi dieci anni. Devo dire che quest'anno con una piacevolissima sorpresa, un esploi secondo me parecchio interessante dei due cori italiani che hanno partecipato, tutte e due arrivati in finale per la disputa sul Gran Premio Città di Arezzo. La Europa è stata passata per la scuola di territorio, prima di chiare un'america, che si sta passando a le loro scuola di entrambi, a le loro scuola di direttamente inizia a passare le loro scuola di territorio, anche inizia a passare le loro scuola per le loro scuola di dominare.